Oggi, mercoledì 31 gennaio, ascoltiamo il Vangelo secondo Marco, capitolo 6, versetti dall'1 al 6. In quel tempo Gesù venne nella sua patria, i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga e molti, ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano da dove gli vengono queste cose? Che sapienza è quella che gli è stata data? I prodigi, come quelli compiuti dalle sue mani, non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui tra noi. Ed era per loro motivo di scandalo, ma Gesù disse loro un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità. Gesù percorreva i villaggi dintorno insegnando. Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti, in casa sua. Questa è la frase che oggi Gesù dice davanti all'incredulità manifestata dai suoi concittadini. Il profeta è colui che parla a nome di Dio, già dall'Antico Testamento, in tutta la Sacra scrittura. Parla a nome di Dio, ma non solo con le parole, anche con i gesti, con le azioni, con la storia, con la vita. Tutto del profeta dice Dio. La sua vita è abitata dalla presenza di Dio e dalla sua potenza. Ora Gesù parla di sé come profeta, ma la cosa interessante è che non pronuncia questa frase in prima persona. Essa riguarda tutti i profeti dell'umanità. La caratteristica proprio di ogni profeta è quella di essere disprezzato nella sua patria, tra i suoi parenti, in casa sua. Ma perché? Perché? Perché il profeta è una persona libera. Egli ha fatto della libertà la sua patria, dell'intera umanità, la sua famiglia, della parola di Dio, la sua casa. Un vero profeta è capace di rinunciare a tutto pur di vivere la sapienza di Dio, che confonde i sapienti e gli intelligenti e impara dalla vita semplice, come quella di un comune familiame galileo. La vita di Gesù era troppo semplice per aver potuto formare un profeta, è troppo comune per essere lui messia. Questo pensavano i suoi concittadini. Per i suoi concittadini Gesù era solo un motivo di scandalo. La parola scandalo in greco, scandalos, indica praticamente una caduta provocata da un inciampo. È chiaro che Gesù è un ostacolo, un inciampo a chi crede di essere in possesso della verità, a chi pensa di conoscere Dio. Proprio come quegli uomini riuniti quel sabato nella sinagoga di Nazareth, loro pensavano di conoscere tutto su Gesù. Professione, famiglia, fratelli, sorelle. Invece purtroppo non hanno saputo riconoscere la presenza profetica di Gesù e non hanno saputo neppure accogliere la vera sapienza di Dio. Che oggi il Signore ci riempia della sua sapienza. Chiediamolo al Signore perché anche la nostra vita sia profezia, cioè parola di Dio che vive, che fa vivere gli altri e che la sapienza di Dio scenda su di noi per le preghiere anche di San Giovanni Bosco che oggi la Chiesa ci fa ricordare, ci fa celebrare. Proprio di questo dono della sua vita, tutta donata all'educazione dei giovani, piena della grazia, della sapienza, ecco che Don Bosco preghi, preghi per noi perché possiamo davvero essere anche noi una presenza di bene, di pace che valorizzi gli altri e che porti avanti questo mondo nel modo più bello possibile. Buona giornata!